La società occidentale ha raggiunto la sua logica conclusione, una conclusione coerente con i suoi presupposti, perché secondo me la società occidentale è stata fondata e si è basata sulla sola ragione, mentre tutto il resto che pur fa parte dell'animo umano è stato negato. Ma ogni volta che qualcuno tenta di essere soltanto razionale, gli itinerari della vita vengono interrotti e negati. La società diventa allora soltanto qualcosa di artificiale nella quale non si può più vivere. Per questo l'Oriente è diventato un punto di profonda attrazione, è diventato così affascinante per la gente dell'Europa occidentale. Gli occidentali vengono qui per trovare la loro strada nel loro inconscio, nella parte irrazionale del loro essere. La ragione è stata confutata, visto che la ragione li ha condotti ad un punto in cui tutto perde di significato. La ragione è diventata come una giacca troppo stretta nella quale la vita risulta impossibile. Così è tutto ciò che non è razionale che deve affermarsi. Ed è solo l'Oriente che può ancora fornire un contributo al non razionale, perché l'Oriente è rimasto profondamente non razionale. Noi non riteniamo che la sola ragione sia sufficiente. Riteniamo invece che proprio ciò che non è razionale sia il succo dell'esistenza, perché essa stessa non è razionale. Forse l'Occidente diventerà presto Oriente e c'è un'ulteriore possibilità della quale potreste non essere al corrente. Voglio dire che potrebbe accadere che l'Oriente diventasse Occidente, perché vedete, anche l'Oriente si trova ad una svolta e si sente attratto dalla scienza occidentale, tanto quanto l'Occidente si sente attratto dalla spiritualità orientale. Questo secolo potrebbe assistere a un gioco delle parti, l'Occidente che si scambia con l'Oriente e viceversa. L'Occidente è stanco di essere soltanto logico e l'Oriente è stanco di essere soltanto illogico. Entrambi questi mondi sono arrivati al vertice dei propri presupposti ed ogni qualvolta si raggiunge un picco, una vetta, mi sembra del tutto logico ammettere che non si possa far altro che scendere. Così come la società si è organizzata fino ad ora, l'uomo è stato sempre diviso. L'Est ha assunto un ruolo parziale e l'Ovest un altro ruolo parziale. È stata una scelta, ma nessuno ha mai voluto accettare il ruolo completo così come esso è. L'Oriente ha scelto l'inconscio, l'emozione, il profondo, ma ciò è pur sempre una parte del tutto. L'Occidente ha scelto il razionale, ciò che vi è di più utilitaristico, ma anche tutto questo è pur sempre una parte. Per me una sintesi è qualcosa senza significato, invece una trascendenza è possibile e io spero che avvenga, ma una trascendenza è qualcosa di completamente diverso da una sintesi. In una sintesi entrambe le sostanze restano individuabili, ma in una trascendenza, in un superamento, entrambe spariscono. Non vi è una nuova disposizione dei componenti, ma una nuova realtà, qualcosa che nasce ed è completamente nuovo. Questa cosa nuova sarà la mente totale, che non sarà né orientale né occidentale, ma qualcosa di universale, una coscienza umana globale. Tale superamento renderà gli opposti complementari tra loro. Così il futuro ha una ricchezza da rivelare che mai precedentemente era stata rivelata. Ma questo equilibrio ci sarà soltanto quando l'Oriente, in quanto tale, morirà e quando anche l'Occidente, come tale, morirà a sua volta. Ciò che si sta verificando adesso è solo un semplice scambio di abiti. Questo non è affatto il modo di risolvere il problema. Servirà solo a scambiarsi il peso da portare. Finché l'uomo resta così, non scambiatevi il carico, non siate attratti dagli opposti, ma se sentite la spinta di questa attrazione, cercate di trascenderla.